Siamo purtroppo sempre più abituati a raccontarvi infortuni sul lavoro subiti dai dipendenti, ma questa volta cambiamo il punto di vista e vi raccontiamo la storia di un'imprenditrice che ha subito un gravissimo infortunio sul lavoro. Peraltro lei stessa si è offerta di aiutare un collaboratore ed è rimasta gravemente lesa. Ospitiamo Stefania Benedetti che ringrazio per essere qui con noi. Grazie a te per l'opportunità. Grazie davvero. Io credo che la tua presenza sia altresì molto importante come le altre protagoniste delle storie che raccontiamo questa sera perché in un momento tra l'altro segnato dalla pandemia in cui siamo tutti concentrati giustamente nella lotta al virus è importante tenere alta l'attenzione anche su altri temi ma soprattutto lanciare un messaggio di forza. E tu mi sembri una donna davvero molto forte anche se ovviamente questa vicenda ti ha buttata giù parecchio. Mi ha segnato certamente. Quando è accaduto e che cosa è accaduto? Allora io sono titolare di un'azienda come hai ben anticipato. Il mio infortunio è accaduto nel 2017 un 29 settembre ed era un venerdì. Ti dico il venerdì perché il venerdì io non lavoro. È l'unico giorno in cui mi concedo un pomeriggio dedicato alla persona e alla famiglia. Invece quel giorno era fine mese quindi sono ritornata in azienda perché non avevo terminato quanto dovevo fare. E quindi prendo, dovevo terminare a mettere le presenze, scendo in azienda e vedo un collega che stava svolgendo un'attività, movimentava un blocco di ferro e dondolava. Quindi mi sono offerta di aiutarlo tenendolo fermo. Sfortunatamente il blocco di ferro per una casualità estrema perché era stato trattato superiormente con dell'olio necessario per evitare che producesse ruggine. si è staccato da quello che era sostenuto, da una calamita che si era formata una microbolla e sotto c'era anche la mia mano. Che cosa ricordi di quegli attimi? Anche dietro le quinte ti ho chiesto se... Guarda Stefania per me... Non si perde la, come dire, non dico la memoria, però si hanno dei vuoti oppure si ricordi tutto perfettamente? No, sfortunatamente sono dei momenti talmente impegnativi da un punto di vista personale, di disperazione immediata, che tu hai ben netto qualsiasi situazione. Io ricordo tutto, tutto, dal primo all'ultimo secondo. Chi ti ha soccorsa per primo? Ma guarda, tutti quelli che erano lì, sono intervenuti tutti, io in primis ho soccorso me stessa, nel senso che ho preso la prima cosa che ho trovato, mi sono arrotolata la mano, naturalmente puoi immaginare quello che posso aver visto, e poi mi sono seduta per terra, mi ricordo che c'era un fascio di luce perché era una bellissima giornata, sarei dovuta andare al mare. E c'era quel fascio di luce e io mi ricordo che ero per terra e mi tenevo questa mano e chiedevo aiuto. Momento difficilissimo. A cosa o a chi hai pensato in quel momento di disperazione? Guarda, ho pensato ai miei ragazzi, uno dei quali era in azienda perché mi aveva accompagnato, ho pensato a come sarebbe stata la mia vita, perché ho visto perfettamente che era poco da recuperare, quindi mi sono resa subito conto, ho pensato a come poter proseguire senza la possibilità di avere una mano. Sei riuscita a far pace con te stessa? Sì, cioè sì, sì è una risposta molto immediata, sì ho fatto pace con me stessa, io a differenza di Claudia che mi ha preceduto, io non mi sono mai chiesta perché a me, anzi, come ho detto molte altre volte, io sono... Credi nel destino? Sì. Che prima mi hai detto, era un venerdì, non dovevo stare al lavoro. Io ho sempre detto che quel giorno era il mio X, dovevo essere in quel luogo, in quel momento ci dovevo essere io. E quindi... Qui ti vediamo... Sì, qui sono insieme a un'altra persona bellissima che è Andrea Lanari. Lo salutiamo, lo salutiamo, c'è Andrea, un abbraccio grande. Qui siamo io e Andrea, in barca, in una situazione carina, organizzata da Liberi nel Vento, col patrocinio dell'Inail. Siamo insieme e c'era una battuta bellissima, perché Andrea stiamo io e te, due, una mano sola, quindi andremo sicuramente benissimo. Come è cambiata la tua vita? Beh, la mia vita è cambiata. E come ti sei rimessa in carreggiata, diciamo? Guarda, io mi sono rimessa in carreggiata da subito, nel senso in cui ho cercato di rimboccarmi le maniche, perché non potevo permettermi in nessun modo di lasciarmi andare, perché ho due ragazzi, 18-17 anni, un marito fantastico, una famiglia bellissima, un'azienda da tirare avanti, non potevo permettermi in nessun modo di abbandonare, quindi sin da subito ho cercato di far fronte a quelle che erano le proposte derivanti all'esterno. Che cos'è Anmil e che ruolo hai all'interno? Perché è importante? Anmil è una parte importante di me, perché grazie proprio ad Anmil che io un po' sono entrata in un ambito dove non sei solo, dove non sei solo a sé stante, ma fai parte di una famiglia, di qualcuno che conosce le tue esigenze e cerca di aiutarti. Io sono vicepresidente territoriale in Anmil e cerco di portare un po' del mio tempo frutto degli altri. Il tema relativo alla sicurezza sul lavoro è attualissimo purtroppo, pensiamo a quel che è accaduto a Torino e non solo. Insomma, gli infortuni sono davvero tanti e tu l'hai vissuto in prima persona. Qual è il messaggio che vuoi mandare a chi ci sta ascoltando da casa e anche a te stessa? Il messaggio da far passare è che c'è sempre qualcosa di bello, anche dopo un momento difficile c'è sempre il sole, basta cercarlo. Grazie, grazie davvero a Stefania Benedetti per essere stata con noi in questa giornata così speciale. Grazie, grazie ancora alla nostra ospite e adesso noi andiamo avanti con altri momenti dedicati alla musica e all'intrattenimento. Grazie.